santo per affrontare le ore di volo. Per Luigi Diaco, sorridente ma nervoso, ha fumato le sue ultime sigarette sull'isola, vuole smettere, ha dichiarato. In gran forma l'attore Alex Belli, vestito di tutto punto, più sportivi Andrea Montovoli e l'ex pugile Patrizio Liva. Fanina Egescia è arrivata con i capelli liscissimi e grandi occhiali scuri, mentre Melissa P è partita con la febbre. Maglione blu elettrico e jeans casual per Catherine Spack, che sull'isola vuole ritrovare se stessa, Super Fashion, invece le Donatella, le sorelle cantanti che valgono come un solo concorrente. A Malpensa è arrivata anche l'ex concorrente di Masterchef, Rashida, e poi lui, il più atteso rock.